Ha rifiutato l'incarico l'avvocato Salvatore Coniglio di Parma, nominato d'ufficio per la difesa di Patrick Mallardo, reo confesso dell'omicidio di Daniele Tanzi, nella notte tra martedì e mercoledì. L'interrogatorio di garanzia per il 19enne di Parma, con un passato contrassegnato, secondo la ex Maria Teresa Dromi, da atteggiamenti violenti verso la stessa ragazza, si è tenuto alle 12 di venerdì a Parma, a difenderlo un avvocato di Guastalla il cui nome non è ancora stato reso noto. Va precisato che a carico del Mallardo non gravano le denunce delle quali avevano parlato sia Maria Teresa che la madre della ragazza. Insomma, alle forze dell'ordine non sarebbe giunto nessun documento ufficiale, dunque al momento fa fede la parola della ragazza che ha raccontato di essere stata pure tradita da Patrick e di averlo lasciato sotto Natale dopo essere stata picchiata più volte da lui. Una denuncia all'autorità minorile, dato che all'epoca Patrick aveva 17 anni, era invece arrivata per l'episodio riportato nel Tg di giovedì sera, quando cioè Mallardo aveva preso a pugni in faccia un amico, riempiendosi le dita di anelli per fare più male. Lo stesso Patrick avrebbe detto di volerla fare finita. Appena in carcere mi ammazzo, si sarebbe sfogato dopo il fermo. A Casal Maggiore intanto sono arrivati alcuni parenti dalla zona di Foggia per stare vicini alla famiglia di Daniele Tanzi, al papà Antonio, alla mamma Antonella e ai due fratellini più piccoli. La data dei funerali del 19enne non è ancora stata fissata, anche perché è molto probabile che d'ufficio venga disposta all'autopsia sul cadavere, ma anche questo si scoprirà con certezza nelle prossime ore.